Oggi ragazzi andremo a shoppare tutto il nuovo stumble pass di aprile su stumble guys Esatto ragazzi perché è uscito il nuovissimo stumble pass che include tantissime nuove skin e tantissimi nuovi oggetti E le nuove skin ragazzi che sono queste due sembrano veramente bellissime Ma ovviamente per prendere questo pass battaglia bisogna meritarselo Quindi bisogna vincere questa partita e andremo a shoppare tutto quanto Mi raccomando ragazzi se volete vedere queste nuove skin in game e se siete pronti per vedere questa mega shoppata Iscrivetevi tutti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video E lasciate tutti un bel mi piace a questo video Ma ragazzi adesso ci ritroviamo di nuovo nella nuova modalità dove bisogna raccogliere le bananine va che belle Perché ragazzi devo ancora raccogliere un po' di banane per andare a prendere la golden banana Ma l'obiettivo di oggi non è prendere la golden banana ve l'ho già detto ragazzi E vincere questa partita per andare a shoppare tutto lo stumble pass Ma adesso siamo nella bombardamente ragazzi sapete cosa vuol dire ormai essere nella bombardamente In tutte le mappe andiamo a tirare cazzotti a tutti quanti con questa nuova skin che è bellissima Questa skin l'ho pagata 30 euro è veramente una skin fantastica ragazzi Credo che sia una delle skin più belle ma perché guardate ragazzi se sto fermo Guardate come è animata tipo l'acqua si muove Qui è veramente bella ma adesso ragazzi andiamo a tirare un po' di cazzotti a tutti quanti Non ho fatto nemmeno in tempo ma sono già morti tutti ma che balle Ma meno male che c'è dato la lava land così almeno ragazzi possiamo ritornare a fare un bel po' di emoticon vai E qua ragazzi troviamo anche una delle nuove skin del pass battaglia L'orsetto gommoso davvero molto molto carino ragazzi non vedo l'ora di andarlo a provare in partita Vieni e volevi e ha non puoi mai battere spezia mi dispiace Questo credeva di ammazzare l'imperatore l'hacker più potente al mondo spezia ma cosa vuoi fare E adesso ragazzi andiamo ad ammazzare questo orsetto gommoso Beccati questo non l'ho spinto abbastanza tanto adesso tranquillo Ti vengo a prendere orsetto gommoso ti vengo a prendere vieni qua Vieni qui orsetto gommoso e tu ti butto giù nella lava Golden banana ciao golden banana beccati questo gran cazzottone Vieni qua pinguino è finita l'ora dei pinguini Let's go ragazzi andiamo a vincere questa partita Nessuno può scampare ai cazzotti detali di spezia Oggi anche l'uno d'aprile quindi ragazzi hai il pesce d'aprile E hanno messo una skin che costa una gemma Oh ma che carini signori di stumble guys che ci prende e regala le cose Perché una gemma ragazzi è pochissimo Vabbè ragazzi quindi nuova offerta di pesce d'aprile Andiamo ragazzi a comprarcela con solo una gemma Let's go Nell'all shop sono anche tornate la ruota speciale per 3 Che dà solo due skin speciali Vabbè un po' inutile E la ruota egiziana che ci andiamo a fare subito due giri Vai così ragazzi giusto per shopparla Magari troviamo anche le skin che ci mancano Perché in questa ruota mi manca tipo una o due skin E ovviamente non ho trovato assolutamente niente Una carina gallina nera Ma adesso è arrivato il momento di andare a shoppare lo stumble Il pass che come prima skin ragazzi ci dà Il candy bird E poi come ultima skin ci dà Ryan Rider Un'altra skin ragazzi veramente carina E purtroppo c'è di nuovo un'altra emote Il pugno Stumbleguest non fa mai delle emote nuove No ma guarda Ma rimettete sempre le solite emote Mi raccomando E vabbè ragazzi cosa dobbiamo farci Stumbleguest deve ancora migliorare in tante cose Deve fare degli aggiornamenti veramente indispensabili Per il gioco perché se no ragazzi Se continua così non andrà a buon fine Ma adesso ragazzi andiamoci a shoppare il nuovo stumble pass 1200 gemme Stumble pass premium E ovviamente ragazzi lo stumble pass Ce lo andiamo a shoppare tutto quanto Ad un solo colpo Vai shoppiamolo tutto Ogni mese devo sempre fare questa cosa Che è veramente soddisfacente Di shoppare tutti i livelli dello stumble pass Sì vai continuiamo così Livello 15 Livello 16 17 18 19 Così via Vai let's go let's go Sblocchiamo ragazzi dei nuovi pass I nuovi giri delle ruote Ragazzi ormai dello stumble pass Sono quasi sempre le stesse cose Animazioni che nessuno usa Altri stumble coins Giri Animazioni Vai Nuova skin speciale per questa sbloccata E anche l'ultimo livello 30 Stumble pass Completato Completato Come prima cosa ragazzi Andrei immediatamente A shoppare la nuova ricompensa Candy beer Vai ragazzi Nuova skin leggendaria Poi come seconda cosa ragazzi Andiamoci a shoppare Tutte le nuove azioni E tutti i gettoni stumble Perché poi ragazzi Nella prossima partita Ci andremo a prendere Tutti i giri Che ci sono in questo Spass battaglia E no ragazzi Ho shoppato uno per sbaglio Ah no Vai Continuiamo ragazzi A riscuotere tutte le ricompense I nuovi pass Anche molto molto bene Pass E mot E mot E mot ragazzi Che tanto nessuno usa Quindi totalmente inutili Che poi secondo me Lo stumble pass Dovrebbero fare tipo Uno stumble pass A tema Cioè ragazzi C'è una skin Di un rossetto gommoso E un'altra skin Boh Totalmente a caso C'è che adesso Potevano fare uno stumble pass A tema ninja E un esempio Mettere una skin Leggendare di ninja E una skin speciale Bella Di ninja Ok Nuova partita ragazzi Di nuovo L'isola del tesoro Questa volta con le monete Perché non siamo nella Nuova modalità Delle banane Ragazzi Siamo con il rossetto Gommoso Che è già morto Stavo dicendo Siamo con il rossetto Gommoso ragazzi Che è molto carino Da utilizzare Bellino Non pensavo ragazzi Che era così bello Invece ragazzi E' veramente Veramente carino Questa nuova skin Leggendaria Ho messo ragazzi Anche passi Delle caramelle Perché siamo a tema Perché l'ursetto Gommoso E la caramella Ho messo anche passi Delle caramelle Però ragazzi Veramente Veramente carina Questa nuova skin Mi piace Ok ragazzi Siamo di raccogliere Più monete possibili Vai Tutte noi Vabbè Propriano sempre Questi maledetti Spuntoni Andiamo anche un po' Nella zona della lava Ragazzi Che vedo che non c'è Nessuno Perché magari ci sono Meno monete Quindi ragazzi Ce le prendiamo Tutte noi Vai Niente Un'altra palla di fuoco Vai Andiamo nella zona Del ghiaccio Perché lì ci sono Veramente tantissime monete In quei due scivoli Spettacurari Andiamo ragazzi In questo scivolo E prendiamoci Guarda qua quante monete Vai Subito settimi Andiamo qui sopra Olè ragazzi Quarti va benissimo L'importante è aver vinto Questa partita Perché se vinciamo Questa partita Andremo a sbloccare Anche la skin Speciale finale Del pass battaglia Enesima skin Che tipo fluttua Con uno skate Spaziale Veramente cannolo Stambo il social Ragazzi Quanto scommettiamo Che adesso perdo Per colpa Dei miei stupidissimi Compagni E va ragazzi Ci tocca E non ci possiamo fare nulla Quindi ragazzi Dovremmo giocare Tutto da soli Ok Vai Attenzione ragazzi L'attaccante spezia Incredibile No Vabbè Cattista è scivolata Tu ti devi spostare Bravo che ha fatto gol Siamo già 1-0 Vai attaccante Un sacchiotto gommoso Spezia Vai Vate ragazzi Che gol incredibile Rete Let's go Occhio alla palla Che è entrata Mamma mia Inutili I miei compagni Mi compagni Totalmente inutili No Stiamo attenti a queste palle Buttiamole subito via Da che stiamo vincendo 2-1 E andiamo a vincere pure Questa partita No aspetta Abbiamo vinto il round Però abbiamo vinto la partita Di calcio Vai Nuova mappa Turbo Temple Come finale Vai Let's go Ragazzi Bisogna subito vincere Questa partita Questa macchina ragazzi In questa mappa È veramente difficilissima Da guidare Quindi ragazzi Bisogna stare Molto attenti Saltiamo qui Vai Super turbo Stavo dicendo Che è molto difficile Da giocare Questa mappa Però dai Tutto sommato È abbastanza carina Però ragazzi Stumble guys Deve assolutamente Mettere nuove mappe Regà Non è che se mettono Una mappa Ogni mese No ragazzi Devono mettere più mappe Ma nemmeno Abbiamo finito Il primo giro Ragazzi Se continuiamo così Veramente è una passeggiata Cioè la vinciamo E niente Cosa è successo La mia macchina Sì ragazzi Sto prendendo tutti i turbi giusti Vai Anche questa qua ragazzi Dai che la andiamo a vincere Bisogna assolutamente vincere Per andare a shoppare L'altra skin Ok Vai Saltiamo pure questo Magari non andiamoci a schiantare Ragazzi Andiamo a vincere Questa partita Let's go Nella nuova mappa Turbo Temple Ok ragazzi In partita ci ritroviamo In pass battaglia Per andare a riscattare Tutte queste ruote Sperando magari Di trovare qualche skin Che non ho ancora Perché qualche skin Magari comune Non comune Ancora non ce l'ho Quindi speriamo Di ritrovarla In questi bellissimi E simpaticissimi giri Partiamo subito Con una skin Non comune Iniziamo ragazzi A prendere le skin Casuali Quelli comuni O superiori Per poi andare a migliorarci Con la skin rara O superiore Ok skin rara Va bene Va bene ragazzi Queste ruote Fanno un po' schifo Sono un po' inutili Però ragazzi ci sono E le dobbiamo aprire Olè Altra skin comune Vabbè ragazzi Queste ruote Oh però non l'avevo Non l'avevo Let's go Oh almeno sono felice Ho trovato una skin Che non avevo ancora Molto molto bene Vabbè ragazzi Continuiamo a shoppare Però ragazzi Queste ruote Fanno veramente schifo Meno male Che l'ultima Perché poi c'è una ruota Epica superiore Molto molto bella quella Odè almeno la skin Leggendaria Nemmeno la skin Leggendaria Mamma mia Ma adesso ragazzi Giro fortunato Epico superiore E qui possiamo trovare Anche delle skin speciali Dai stumble guys Facciata trova No niente skin speciale Meno leggendaria Nemmeno Olè Ma adesso andiamoci A riscattare La nuova skin speciale Rain Rider Eccola qua ragazzi Guardate come è colorata Molto molto bella Ok ragazzi Unidrop Con la nuova skin Mamma mia ragazzi Guardate quanto è bella Molto molto carina E molto particolare Sono ragazzi Nell'evento delle banane Perché qua ragazzi Capitano delle mappe Molto più belle Rispetto alle partite normali Ragazzi Qua posso anche tirare Un po' di cazzotti Beccati questo No ragazzi Però non devo assolutamente morire Ragazzi C'è il vuoto sotto di me Cosa è successo Ragazzi mi sei buggato Tutto quanto Mamma mia ragazzi Avevo tipo Trapassato il muro Ma comunque ragazzi Guarda la skin in alto A destra È veramente Veramente carina Ma adesso ragazzi Di nuovo la bombardamento E questa volta Andiamo a tirare Cazzotti A tutti quanti E inizieremo proprio Vediamo da chi Proprio da questa banana Vieni qui Ma Ma Come è morta ragazzi Ma cosa è successo Vabbè Ragazzi Non ci facciamo domande Meglio così Tanto ammazziamo questo capibara Vai giù E andiamo ragazzi A passare questo round Ragazzi In questa partita Sono successe Un po' di cose strane Sia nella one drop Sia nella bombardamento Ragazzi Due kill Due bug Veramente strani Di nuovo bombardament Stumble guys È veramente una bella creativa A mettere le mappe Ripeto Ma ragazzi Ma 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 Come sta morendo Ragazzi Sono morti tutti Ma dove sono la gente Ragazzi Ma sono scomparsi Rivediamo il replay A mettere le mappe Ripeto Ragazzi Siamo rimasti in due Ma che cosa è successo Ma Ma come è morto Ma che bug sono Ma ho vinto la partita Totalmente a caso No ragazzi Sono sbalordito Ragazzi Non so cosa dire Va bene ragazzi Spero di questo video Se vi è piaciuto Mi raccomando ragazzi Se vi piace questo nuovo Stumble Pass E le sue nuove skin Iscrivetevi tutti al canale Attivando la campanina A propria dei prossimi video E lasciate tutti Un mi piace Su tutto questo video Mi raccomando ragazzi Seguitemi tutti su Instagram Mi chiamo SpeziaYT E andate a mettere like Al mio ultimo post Mi raccomando ragazzi Per rimanere sempre aggiornati Su tutte le novità Se non avete niente da fare Andate a vedere Questi altri video E noi ragazzi Vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao